Cercasi appartamenti per medici ed infermieri. Confcommercio Arezzo si è così attivata alla ricerca di alloggi e strutture adeguate ad ospitare personale sanitario in arrivo in città per contrastare l'emergenza coronavirus. Prese in esame prevalentemente le strutture turistiche del territorio che ovviamente in questa situazione sono prive di ospiti. Si tratta di un'attività su precisa richiesta dell'Asla Toscana Sud-Est in ottemperanza alle disposizioni impartite direttamente dal governatore Rossi. Gli appartamenti dunque devono essere arredati e corredati di tutto l'occorrente per un soggiorno dalle utenze attive alle soviglie e biancheria. Vanno quindi bene sia quelli che abitualmente vengono destinati ai turisti di passaggio sia quelli dati in locazione per tempi più lunghi. La vicinanza all'ospedale San Donato costituirà ovviamente un requisito preferenziale. I proprietari che hanno a disposizione gli alloggi adatti possono farsi avanti compilando il modulo online dove dovranno indicare la tipologia di appartamento, l'indirizzo, il nome del referente e il suo numero di telefono. Devono poi specificare se inserito nell'ambito di un'attività ricettiva o si tratta di una locazione turistica ed indicare il prezzo sia settimanale che mensile. Tutte le offerte pervenute saranno poi raccolte ed inviate all'Asla che provvederà direttamente a contattare i referenti selezionati.